In questo caso la musica serve per riportare le persone in quei territori che in qualche modo sono state costrette a lasciare in questo anno perché le case sono inagibili, molte attività lavorative, scuole e quant'altro. Quindi quello che si perde dopo un terremoto non sono solo i propri cari, le vittime, le abitazioni. Si perde anche la possibilità di avere una vita sociale, di avere un tessuto sociale, di incontrarsi, di guardarsi negli occhi, di parlare. L'estate in questo ci aiuta perché possiamo sfruttare la natura per mettere in scena dei concerti, degli spettacoli senza avere intorno dei muri e senza avere il tetto sulla testa. Però questo dà la possibilità alle persone di tornare nei luoghi che più amano, accanto alle cose che più amano e di ricominciare a stare insieme.